Mi è stato chiesto di tradurre due capitoli di Seneca, vediamo il primo sulle brevitate vite e capitolo quinto. E' bello riflettere e Seneca ci fa riflettere e alcuni passi sono di una profondità psicologica incredibile. Questo scandagliare il cuore dell'uomo senza teorie o ideologie preconcette guidate non esclusivamente da una pseudoscienza umana ma dalla filosofia che è la riflessione dell'uomo sugli eterni problemi della vita. Vediamo, insiste Seneca nel ricordare che il sapiente, il vero sapiente è sempre libero. Può in certi momenti anche essere preso dallo scoraggiamento ma alla fine la libertà che possiede attraverso una conoscenza che spesso può essere dolorosa lo fa essere superiore, come dirà la fine, agli altri. E parte così nel quinto capitolo ricordando Cicerone, questo uomo che nella sua filosofia eclettica, nella sua opera politica, si buttò tutta la sua esistenza in questo conflitto continuo, specialmente conflitto politico. Un conflitto che molto spesso poi gli fece perdere la bussola, gli fece perdere se stesso. Quindi il rischio che le cose di questo mondo, la cosa si svilupperà ancora meglio nel capitolo ottavo, le cose di questo mondo ci facciano dimenticare noi stessi. Proprio innanzitutto come uomini, ecco allora che rifarsi a Cicerone è una buona partenza. Vediamo cosa dice. Dunque una frase abbastanza lunga per Seneca che è abituato a proposizioni principali e ricche coordinazioni per cui dobbiamo far molta attenzione. Io ho sottolineato questi nominativi, Iactatus, Abductus, Quietus, Patience, sono tutti nominativi che in varie proposizioni alla fine si rifanno a Cicero che è il soggetto della proposizione principale. Quindi Cicerone è il soggetto. Poi voi vedete c'è un Iactatus, anche il Iactatus volendo potrebbe essere unito alla proposizione principale, io ho preferito staccarlo per non rendere questa proposizione principale troppo lunga. Quindi Marco Tullio Cicerone, sballottato tra i Cattilina, notate molto spesso questi elenchi che non sono segnati da virgole, noi in italiano scriveremmo Cattilina svirgola, Clodio svirgola, beh, no, con Clodio svirgola no perché ci abbiamo un que, però tra Cattilina e Clodio ci dovrebbe essere una virgola. Capita invece che negli elenchi molto spesso ci sia una serie di vocaboli, qui un accusativo reddito da Inter, quindi un complemento di luogo figurato tra i Cattilina, i Clodio e i Pompeio e i Crasso, ci ricordano un po' questo flash in una figura retorica tipicamente dell'antonomasia, no, Crasso, Pompeo, il primo triunvirato con Cesare, Cattilina, no, di cui ricordiamo, su cui ricordiamo le opere cattilinarie, Clodio, il nemico acerrimo di Pompeo, eccetera. Parte nemici manifesti, notate che questo inimicus non è hostis, quindi inimicus si intende nemico personale, parte nemici manifesti, parte amici dubbi, cominciamo da capo. Allora, Marco, la proposizione è interrotta da una temporale. Notate che Seneca qui sta usando il presente storico, quindi continuiamo col presente storico. Il presente storico fino ad ora non è ancora parso, ma alla fine, vedete, detestatur, che il verbo della proposizione principale ci dà il presente storico. Poi, valutando anche, fino a un certo punto, non possiamo valutare altro, perché il participio passato rimane così. Il DOOM, in ogni caso, vuole il presente indicativo, perché il DOOM, voi sapete, regge il presente, anche se in italiano può essere tradotto con imperfetto, quindi l'unico verbo che ci rivela, che ci troviamo in una frase con il presente storico è detestatur, e che ci dice che a questo fluttuatur bisogna tradurlo così come è scritto. Se no, avremmo dovuto dire mentre era sballottato, ma detestatur, e detesta, presente, quindi, mentre è sballottato con lo Stato, e tenetilla, cioè la Repubblica, e amministra lo Stato, euntem pessum, euntem è il participio passato di Dio essi, eo is i vitumere, e amministra, e lo amministra, euntem, mentre va alla deriva, euntem è un participio presente che noi trasformiamo in una proposizione relativa. Pessum è un avverbio, letteralmente, che va pessimamente, ma noi preferiamo mettere che va alla deriva. Novissime è un avverbio, alla fine, all'ultimo momento, travolto, di nuovo, abductus, volendo anche questo potrebbe essere isolato questo verbo, e quindi aprire un'altra subordinata, con valore temporale, vedete un po' voi, l'analisi qui si può fare come si ritiene opportuno. Poi continuiamo sempre a partire dai nominativi, ne quietus, sereno, secundis rebus, per i momenti favorevoli, o nei momenti favorevoli, potrebbe essere un complemento di tempo determinato, né paziente delle situazioni avverse, quotiens, e qui inizia sostanzialmente il forte della proposizione principale, che è una principale esclamativa, vedete, quotiens, quante volte, detestatur, è un deponente, detesta quello stesso suo consolato, non senza ragione, ma lodato senza fine. Quindi molto spesso, ecco, vedete, gli impegni travolgono, stravolgono, e poi si arriva al punto di detestarli, e si arriva al punto di sostenere quello che poi Seneca macchetta con severità. Poi vi ricordate che, tra le altre regole, vi ho detto, inizia la proposizione principale, e, no, scusate, inizia una proposizione diretta, tra virgolette, bisogna tirar fuori l'inquite e metterlo davanti, altrimenti ci si confonde. Qui addirittura, si potrebbe addirittura andare a capo, no? E vedere tutto da capo, come una proposizione nuova. Allora, Quam flebiles voces esprimit in quadam adatti come pistola? Allora, è evidente che qui ci troviamo di nuovo in una proposizione principale, il punto esclamativo ci dice che è una proposizione principale esclamativa. Qui abbiamo due ablativi assoluti, uno con il participio passato, un altro con il participio presente, quindi questa azione è anteriore all'azione espressa dalla proposizione principale, mentre questo refovente esprime un'azione contemporanea all'azione espressa dalla proposizione principale. Quindi, esprimite sempre un verbo che ha come soggetto cicerone, attenzione quando si inizia a parlare di un personaggio, poi questo personaggio in modo particolare latino non viene ripetuto ad ogni frase, e flebiles voces sono dei vocaboli in accusativo plurale, complemento oggetto di esprimit. Quindi, quante lamentele piagnucolose scrive in quadam epistola, in una certa lettera rivolta ad attico? Ormai, vinto, vi ricordate che più di una volta vi ho detto che nell'ablativo assoluto quel participio passato si può tradurre letteralmente, participio passato in latino, participio passato in italiano, volendolo si può esplicare con una proposizione temporale, dopo che era stato vinto Pompeo padre, considerato come un padre, oppure semplicemente vinto ormai Pompeo padre, o si può intendere padre in riferimento al figlio di cui si parla subito dopo. Quando il figlio refovente metteva assieme le armi, questa è una metonimia, l'esercito sconfitto in Spagna, quindi ho tradotto questa proposizione espressa dall'ablativo assoluto, con una temporale. Disse, disse sempre il soggetto è Cicerone, proposizione principale, adesso entriamo nel discorso diretto, quindi si ricomincia tutto da capo. Dunque, Queris chiedi quid agam ic che cosa io faccia qui? Attenzione che qui, per mettere giustamente i puntini sulle i, abbiamo una proposizione principale interrogativa che regge una subordinata interrogativa, quindi Queris è la principale interrogativa, quid agam ic è la subordinata interrogativa, Queris infatti all'indicativo, agam al congiuntivo. Moro in tusculano meo semiliber? Muoio, no, scusa, sto sbagliato, sto di moro in meo tusculano, nel mio tusculano, nella mia villa del tuscolo, semiliber, semilibero, già qui questo vocabolo non piace a Seneca, ma come semilibero? Se sei sapiente, non puoi essere semilibero, ma vediamo il seguito. Semilibero, un complemento predicativo del soggetto, non confondiamo moror con morior. Allia deinceps adicit quibus, et priore vetaten complorat, et de presenti queritor, et de futura desperat. vedete che qui ritorna proprio lo stile di Seneca, con principale, prima coordinata, seconda coordinata, terza coordinata, e così all'infinito. Deinceps è un avverbio, alla fine, aggiunge altre considerazioni, altre parole, altri pensieri, o semplicemente altre cose, a quelle, quindi questo è un nesso relativo, questo quibus, e quindi questa è una proposizione principale. E poi continua una prima coordinata, e deplora la vita precedente, e si lamenta della presente, e non ha fiducia della futura. notate che c'è tutta la figura retorica del polisindeto, et, et, et. Semiliberum, ecco che riprende il pensiero, semiliberum sedixit cicero, at mercules, nunquam sapiens in tam umile nomen procedet, nunquam semilibererit, integra sempre libertatis et soliderit, solutus et su iuris et alzior, eccetera, se vedete di nuovo, proposizione principale, con una serie di coordinate. Cicerone si è definito semiliberum, at, questa è un'interiezione, ma per Ercole, nunquam non mai, il sapiente, non scenderà mai in una definizione tanto bassa, nunquam erit semiliberum, non sarà mai semilibero, sempre sarà di una libertà integra e solida. Attenzione a questo solutus et, che potrebbe essere una variazio, ma certamente una variazio, non ho ben capito se lo dobbiamo tradurre nella stessa costruzione che troviamo solutus et, oppure pensare a una, una anastrofe, e mettere, porre let prima di solutus. è libero, libero, sì, del suo potere, e, alzior, è un comparativo, e subito dopo abbiamo un ablativo, il secondo termine di paragone, è superiore a tutti gli altri. non vedrei l'altra possibilità, libero e, del suo potere, e, superiore a tutti gli altri. Io preferirei porre lette, prima di solutus, se avete delle traduzioni alternative, ben vengano. Qui denim supra eum potestesse, qui supra fortuna mest. Eum, qui mi raccomando, dimostrativo, relativo, dobbiamo terminare la proposizione principale, con leum, in modo che si possa attaccare a qui. Che cosa, infatti, può essere, supra eum, sopra colui che è sopra il destino, invece di sopra potremmo mettere superiore. Che cosa, che cosa, infatti, può essere superiore a colui che è superiore al destino. Attenzione, che fortuna, presentata semplicemente così, in latino, non corrisponde a fortuna, in italiano. Fortuna così è non definita, e quindi si identifica con destino. che cosa, che cosa, che cosa,